Per l'ennesima volta i ladri fanno visita a Ignazio, cercano di rubargli di nuovo l'auto. Allora i miei cari amici ladri sono ripassati a trovarmi perché gli mancavo, mi hanno rotto il vetro e hanno iniziato a portarmi al volante, probabilmente poi sono arrivato e quindi sono scappato. No, non l'ho visto però penso che sia andata così. Allora io dico, visto che in un anno avete rubato in casa, avete rubato lo scooter, lo avete rubato in macchina, mettiamoci d'accordo, passate una volta ogni 15 giorni, mese e vi lascio un qualcosina. Voi evitate lo scazzo di fare questi casini e io evito di andare a dover cambiare le cose, rompermi i coglioni. Grazie. Buona domenica anche a voi. Ignazio è veramente incavolato perché non è la prima volta che cercano di rubargli la macchina e anche in casa. Buona domenica. Grazie.